Buongiorno a tutti, oggi parliamo di Speed Queen, lo storico brand numero uno al mondo nelle lavanderie self-service che debutta a Voghera e lo facciamo con Stefania Bonelli che è la titolare del negozio che da pochi giorni è presente in Via Fratelli Rosselli 139. Stefania, buongiorno, come nasce l'idea di portare una di queste bellissime lavanderie self-service anche nella capitale dell'Oltrepopavese? Sono sentimentalmente legata a questa città e ho pensato di valorizzarla regalando ai cittadini un servizio utile e innovativo. Ecco, per conoscere meglio il mondo Speed Queen, quali sono i punti di forza di questo negozio? Qualità e risparmio. Le nostre macchine sono di ultima generazione con tecnologia avanzata, utilizziamo prodotti professionali di origine vegetale, quindi ecologici e ipoallergenici certificati all'Università di Pavia. Tutto questo permette un bucato perfetto in un'ora e a costi veramente concorrenziali. A chi si rivolge Speed Queen? Qual è quindi la clientela ideale? A tutti, sia al single per il bucato settimanale, al lavoratore che ha bisogno di un lavaggio energico per il proprio abbigliamento, alla massaia per riporre i capi al cambio di stagione, quindi i capi igienizzati e profumati all'interno degli armadi e anche per i tessuti di tutta la casa, tendaggi, copridivani, copriletto, trapunte e piumoni. A proposito di questo, voglio farvi notare la macchina da 20 kg, dove potrete lavare piumoni e trapunte matrimoniali con risultati veramente ottimi. Le nostre macchine possono essere utilizzate anche saltuariamente, nel caso si rompesse la lavatrice di casa o comunque per chi è qua a Voghera in trasferta. Inoltre potete utilizzare i nostri potenti essiccatori per asciugare il bucato fatto in casa ed evitare così inestetici tendini e la muffa sulle pareti. Potremmo definire Speed Queen una lavanderia 3.0. Ha un design accattivante, esiste una app per smartphone semplice da usare e anche un pet corner. Cominciamo proprio da quest'ultimo punto per tutti gli amanti degli animali. Di che cosa si tratta? Questo è l'angolo dedicato ai nostri amici a quattro zampe. La lavatrice utilizza uno sgrassatore apposito per la detersione e l'igienizzazione profonda di cucce, coperte e accessori dei nostri amici animali. In più l'asciugatrice crea un vortice che elimina i peli ressivi dai tessuti. L'applicazione invece permette di gestire il proprio portafoglio, è così? Sì, certo. Speed Queen è all'avanguardia anche in questo. Ha deciso di affiancare alla cassa tradizionale la possibilità di pagare tramite carta di credito oppure anche in contanti scaricando la sua app, app Speed Queen. Potete seguire le istruzioni qua in negozio seguendo appunto le istruzioni del Totem. Con quest'app inoltre potete gestire direttamente le vostre macchine dallo smartphone. Infine, lo sappiamo, anche l'occhio vuole la sua parte. Siamo in un luogo in cui il design è stato curato nei minimi dettagli, vero? Sì, certo. Anche l'occhio vuole la sua parte. Noi abbiamo cercato di coccolare al massimo i clienti rendendo l'ambiente confortevole in modo che l'attesa diventi comunque un momento di relax. Vi aspettiamo dal lunedì alla domenica dalle 6 alle 22 in via Fratelli Rosselli 139 nella nostra lavanderia Speed Queen.